Allora, benvenuti, l'oggetto di questo video sarà quello di vedere come far assumere una forma curva ad un cilindro o comunque a qualche altro oggetto su Blender l'esempio che faremo sarà su uno sculpted generato dalla libreria Primstar 2 di Gaia Clari e in tal caso sapete che si può usare il Blender 2.61 e sarà l'oggetto di questo video si potrà anche usare un Blender più vecchio, Blender 2.59 con il plugin gratuito di Albsalgar Ok, allora partiamo qui, noi abbiamo con il 2.61, vi farò vedere anche i tasti premuti perché c'è un add-on, un plugin che consente di vedere quali tasti sono premuti facendo Start Display, qui adesso dovreste vedere il tasto sinistro e così via tutto quello che io premo comunque per cominciare cancelliamo il nostro cubo di default quindi lo selezioniamo, facciamo Cancel, Del, e poi clicchiamo su Delete e poi inseriamo al centro, quando andiamo al centro facciamo un bel Shift-C per inserire il cursore esattamente al nostro centro Shift-A, inseriamo una UV shape corrispondente agli oggetti sculpted di Gaia, Domino e O la versione gratuita e mettiamo un cilindro ora il cilindro, prima di fare qualunque cosa, dobbiamo accertarci che abbia le caratteristiche giuste per poter essere piegato di default i sculpted in particolare nascono con 32 anelli se volete fare delle cose molto semplici bastano, ma se volete piegarle in maniera un pochino più complessa occorre allungare, aggiungere il numero di anelli visto che useremo un modificatore già che curva in maniera graduale possiamo togliere il modificatore di default che mettono gli strumenti di Primstar quindi mettiamo a livello 1 il subsurf quindi non c'è più subsurf e impostiamo il numero di facce orizzontale a 16 e il numero di facce verticali a 64 ricordiamo che il prodotto deve essere 1024 in questo modo noi avremo una struttura a 16 anzi possiamo anche vederla nel senso che se andiamo in edit di questo strumento vedete che poi ci mettiamo un pochino vicino vedete che c'ha 32 anelli mentre c'ha 16 praticamente punti lungo ogni anello e questo è il senso della selezione precedente cerchiamo di vedere col tastino numerico quindi vediamo di fronte il nostro cilindro 1 togliamo la visione prospettica che ci dà di solito fastidio muovendo 5 del tastino numerico ci mettiamo in modo tale da poterlo vedere con shift e muovendo con la rotellina numerica con la rotellina del mouse dopodiché visto che la deformazione a curva funziona di default lungo l'asse X ci allineiamo in anticipo il nostro cilindro lungo l'asse X che è questo rosso quindi dobbiamo fare R e ruotare il cilindro di 90 gradi lungo l'asse Y perché è quello ortogonale allo schermo quindi RY 90 e a questo punto allarghiamo lungo l'asse X in modo tale da formare una sorta di sigaretta quindi facciamo S X e allunghiamo vedete che si vedono chiaramente le suddivisioni su cui andremo adesso a operare allora a questo punto se vogliamo curvare questo cilindro lungo una curva dobbiamo avere la curva per averla dobbiamo andare in Object Mode e introdurre con Shift A una curva appunto ora io precedentemente avevo fatto vedere una curva di Bezier ma le curve di Bezier sono un po' scomode da gestire preferibile per i scopi comuni usare una NURBS curve che è molto molto più semplice e dà risultati migliori quindi prendiamo una NURBS curve adesso poi vedremo come è fatta ora la curva di NURBS è dentro la nostra sigaretta per vederla dobbiamo andare magari in Z e vedete che è presente però è piatta per vederla dovremmo vederla dall'alto questo vuol dire che questa curva dovrebbe essere ruotata in 90 gradi in modo tale da essere allineata con la visione frontale quindi abbiamo ruotato in 90 gradi lungo l'asse X quindi facciamo avendola selezionata facciamo R X 90 e per vedere se abbiamo fatto la cosa giusta andiamo sulla visione frontale 1 e vediamo che effettivamente la curva è allineata lungo il nostro cilindro ora una cosa suggerita per migliorare la gestione di queste curve NURBS è di andare in Edit Mode quindi andiamo in facciamo Tab vedete che la curva viene seguita da questa struttura e poi essendo in questa struttura andiamo sulla andiamo sulla modalità questa Object quindi avendo selezionato la curva andiamo in Object Data andiamo nel Path Animation e diciamo di abilitare l'azione sugli End Point in questo modo vedete che l'End Point diventa parte integrante della curva e quindi diventa più facile da manipolare ora andando in Object Mode dobbiamo in qualche modo dire al cilindro questo che deve seguire quella curva per fare questo dobbiamo andare nel menu dei modificatori questo in alto a destra e aggiungere il modificatore curva specificando vedete che qui facevo riferimento all'asse X che è quello su cui noi ci siamo allineati e l'oggetto è la NURBS Curve vedete che facendo in questo modo si ottiene già automaticamente che l'oggetto segue segue esattamente la curva almeno per quello che può se noi vogliamo fare fare la curva un disegno diverso dobbiamo selezionare la curva quindi adesso andiamo in Edit Mode vedete che quando è in Edit Mode noi non vediamo più l'oggetto curvato questo perché per poterlo vedere anche quando si è in Edit Mode occorre cliccare su questo tastino del modificatore cliccando in questo modo vedete che si vede sia il nostro oggetto principale ma che anche l'effetto della curvatura comunque noi adesso andiamo in Object Mode perché vogliamo selezionare la curva che sta dietro la curva possiamo selezionarla o da qua o ricordo possiamo selezionarla anche da questa vista dove c'è il NURBS Curve piuttosto che il cilindro avendo selezionato la curva noi possiamo andare in Edit Mode della curva e possiamo allungare quindi selezionare un vertice e aggiungere dei punti alla curva aggiungere dei punti a una curva così come a qualunque mesh basta selezionare un punto e poi si può in qualche misura estrudere questo punto cliccando col tasto a sinistro di un altro punto vicino quindi se ad esempio adesso clicco con CTRL e poi col tasto a sinistro del mouse vedete che la curva si è allungata e se continuo a cliccare altri punti la curva continua ad allungarsi se voglio estendere da altre parti vado sull'ultimo punto e poi sempre con SHIFT posso estendere la curva aspettate seleziono questo e poi col CTRL scusate estendo la curva progressivamente quello che succede è che il mio cilindro è obbligato a seguire man mano che si muove lungo la X il profilo di questa curva quindi se io vado adesso in Object Mode e mi seleziono il mio cilindro e lo spingo lungo la X vedete che lui è obbligato a seguire la curva ora questo sistema che come vedete è molto effettivo e usando gli strumenti giusti riuscite a ottenere praticamente dei cubi scusate dei cilindri che possono avere la forma che volete aggiungendo punti o via discorrendo questo effettivamente è uno sculpted per accertarvi se non siete convinti che siano sculpted potete sempre provare a ottenere la baked image quindi andiamo abilitiamo il nostro UV Image Editor sulla destra e poi avendo selezionato appunto il nostro oggetto qua cerchiamo di fare il backing dell'immagine allora il backing dell'immagine varia da Primstar a Primstar diciamo che tendenzialmente potrebbe essere qua baked sculpt maps però su Albsalgar probabilmente la trovate o sotto object o sotto la image quindi facendo baked sculpt maps vi presenta questo menu facendo ok viene eseguita la sculpted map per vederla dovete cercarla nell'elenco ed eccola vedete che avendola selezionata 16x64 è venuta leggermente oblunga se volete essere sicuri che questa sculpted map rappresenta effettivamente questo tubo potete fare una sorta di preview in Blender facendo Image Import as Sculpti e viene praticamente importato una copia di quell'oggetto come se fosse uno sculpt e vedete che effettivamente è lui quindi questo è l'effetto che avreste mettendolo in Second Life torniamo un attimo al nostro cancelliamo il nostro oggetto questo cilinder 001 e torniamo sul nostro oggetto di partenza a questo oggetto di partenza vedete dipende dalla curva la curva può essere modificata anche in fase d'opera quindi se io vado a selezionare la mia NURBS curve che era sottostante magari vado in Z per vederla vado in Edit Mode posso liberamente prendere i punti della curva e continuare ad alterare la curva attenzione a non fargli fare troppi spigoli perché questi esulteranno con un brutto effetto quindi purtroppo dovete fare in modo tale che gli spigoli non vengano diciamo troppo comunque diciamo che avendo una un'immagine di sfondo opportuna si può far seguire si può far in modo tale da seguire qualunque tipo di curva ora prima di lasciare la curvatura vediamo un ulteriore esempio di curva particolare notevole che è la curva rotonda se voi volete fare in modo tale che il vostro cilindro invece di andare lungo una curva segui esattamente una curvatura scusate sferica circolare anzi allora cosa dobbiamo fare dobbiamo andare sul cilindro anzi no ci costruiamo un andiamo sulla curva così andiamo in object mode e poi aggiungiamo un NURBS circle allora il NURBS circle analogamente per poter avere effetto deve essere girato ruotato in modo tale che sia parallelo alla modalità in cui noi vogliamo applicarlo qui dobbiamo fare ancora un R X90 per vederci il circolo in modo adeguato ora se noi vogliamo fare in modo tale che il nostro cilindro segue questo circolo è sufficiente selezionare il cilindro andare nell'elenco dei modificatori che abbiamo visto qua e dirgli che invece di seguire la curva NURBS segue la curva circolo come vedete nel momento in cui ho fatto questa operazione il mio oggetto adesso facciamo Z si è curvato secondo il mio quindi in questo caso è diventato un toro voi direte cosa serve un toro adesso questo è un esempio però si può fare in modo tale che l'oggetto possa seguire un pezzo del toro quindi ad esempio noi andiamo in edit del cilindro vedete questo qui è il cilindro completo se noi facciamo SX per ridurre vedete che noi possiamo praticamente fare in modo tale che il cilindro praticamente ruoti a seconda di come lo metto questa caratteristica che l'aspetto del cilindro dipende da come lo muovo diventerà molto importante quando poi faremo le animazioni quando si faranno le animazioni qui a questo punto l'unica cosa accertatevi soltanto che lungo l'asse X se volete fare se volete curvare qualcosa in modo cilindrico accertatevi soltanto di chiuderlo senza troppo troppa sovrapposizione credo che questi due esempi siano abbastanza interessanti per capire cosa si può fare con il modificatore curva ricordatevi soltanto di usare i NURBS curve i NURBS circle e di seguire attentamente gli allineamenti richiesti per questa lezione è tutto vi saluto grazie a tutti